Avviene dall'oltre oceano, noi siamo obbligati a fare la cassa di risonanza dell'informazione, non è la nostra informazione, abbiamo messo la nostra sovranità, questo è grave. Noi li vediamo da destra, in tutto e per tutto. Allora, secondo me la difesa di giornalità è quella di far capire ai più e anche noi potremmo essere sovrani come popolo, sono passati 80 anni, abbiamo diritto anche noi alla nostra informazione, ai nostri apparati, ecco, cosa dire una cosa, l'intelligence italiana non esiste da parte della Nato, no? E la Nato ovviamente sotto schiaffo delle potenze principali perché se fosse esistita l'intelligenza italiana, l'intelligenza italiana, forse Mauro, Olivetti, Mattei, non sarebbero morti, non è così, quindi non siamo tutelati. Ti faccio il discorso di dignità nazionale, ecco, questa è un po' la mia mission. Grazie. 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 Grazie a tutti.